la guardia di finanza sequestra 70 mila euro un sessantenne che metteva a fatture false tavulli all'emozione dei cittadini il giorno dopo il ritiro di valentino rossi cimitero centrale al via da settembre i lavori al padiglione dei fiori sotto passaggi d'arte urbana terminata la nuova opera a loreto una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre ben trovati un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo di cronaca e di un'importante operazione condotta dalla guardia di finanza di fano che ha sequestrato beni e denaro per un valore di 70 mila euro ad un sessantenne residente in provincia colpevole di aver emesso fatture false vediamo il servizio la compagnia della guardia di finanza di fano su disposizione del giudice per le indagini preliminari di pesaro ha dato esecuzione al sequestro preventivo di denaro presente nei conti correnti e di altri beni per un importo di circa 70 mila euro nei confronti di un sessantenne residente nella provincia pesarese e rappresentante legale di una società il quale aveva emesso quattro fatture false per una cifra superiore ai 170 mila euro il reato è stato ripetuto sia nel 2015 che nel 2016 l'indagato attraverso una ditta operante nel settore delle costruzioni meccaniche con sede a fano e per mezzo delle non veritiere ricevute fiscali avrebbe consentito ad altre società marchigiane di ottenere un indebito risparmio sulle tasse la falsità delle ricevute è stata rintracciata grazie al fatto che alcuni documenti fiscali erano stati emessi prima che la società ottenesse l'assegnazione della partita iva inoltre le società che si sarebbero dovute occupare della rigenerazione del macchinario oggetto delle fatture non avevano né stabilimenti né dipendenti in grado di ospitare il bene e di svolgere correttamente il lavoro richiesto la guardia di finanza di fano su richiesta della procura di pesaro ha quindi avviato tutti gli accertamenti bancari e le indagini patrimoniali necessarie a conoscere la totalità dei beni in possesso all'indagato il valore totale dei beni sequestrati preventivamente all'uomo ovvero 70 mila euro rappresenta l'incasso che proprio quest'ultimo aveva ottenuto dalle altre società grazie all'emissione delle ricevute false e all'abbattimento delle tasse da pagare il sessantenne è stato inoltre denunciato a piede libero in primo piano ancora la cronaca perché ci sono aggiornamenti sulle indagini relative alla rapina con sparatoria avvenuta al troni in zona torraccia nel novembre del 2018 il palo della banda un cinquantenne residente a tavuglia è stato trasferito in carcere dai carabinieri per scontare la pena patteggiata due anni e sei mesi durante l'arresto gli agenti hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione del cinquantenne anche un quantitativo di sostanze stupefacenti ancora ignoti invece i nomi dei tre complici che avevano aperto il fuoco contro il portavalori e il suo conducente per sottrarre la borsa contenente circa 30 mila euro gli incassi dell'esercizio commerciale i raffinatori avevano infine sottratto all'uomo sopravvissuta l'accaduto la borsa errata ovvero quella contenente i suoi effetti personali e i militari del nucleo carabinieri spettorato del lavoro di pesaro e urbino insieme agli agenti del comando di sant'angelo invado al personale asur di urbino e a quello dell'ispettorato del lavoro hanno disposto la chiusura per cinque giorni e una maximulta di 75 mila euro nei confronti di un lavoratorio tessile cinese situato a sant'angelo invado che contava nove lavoratori non regolarizzati e quindi in nero sugli 11 controllati il titolare dell'azienda si è reso responsabile di gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per non aver rispettato nessuna delle norme obbligatorie e inoltre per il mancato applicamento dei protocolli e delle regole anticontagio covid e nel prossimo servizio ci spostiamo a tavuglia perché il giorno dopo l'annuncio del ritiro di valentino rossi siamo andati a raccogliere le reazioni e le emozioni dei suoi concittadini il servizio è di edoardo razzi questa mattina ci troviamo a tavuglia città natale di valentino rossi che nella giornata di ieri in conferenza stampa ha dato l'addio alla moto gp andiamo a sentire le emozioni le sensazioni che hanno provato i tifosi durante l'addio di valentino rossi dato proprio ieri in austria sicuramente un tuffo al cuore diciamo perché dopo anni che uno lo segue la moto gp non sarà più la stessa darà le stesse sensazioni perché vedere lui era tutta un'altra cosa sicuramente qual è il ricordo più bello che hai di vale ma direi quando ha fatto le battaglie storiche con stoner ma quasi tutte le volte che si è in capo unito con qualche avversario quindi stoner partendo da biaggi fino agli ultimi con marquez comunque è sempre spettacolare speriamo di vedere il fratello che sia il seguito di valentino ecco speriamo ecco quello sicuramente però diciamo che sì non me l'aspettavo non me l'aspettavo così all'improvviso la comunicazione che avrebbe smesso tutti speravamo che continuasse almeno un altro anno chissà però niente dai ci sta diciamo che ci ha fatto divertire per un bel po di tempo se lo meritava secondo te il decimo titolo come lui stesso ha detto ieri assolutamente sì se lo meritava come purtroppo è stato anche sfortunato a non raggiungerlo secondo me e da però niente va bene nove sono sono tantissimi e va bene così dai ci ha fatto divertire ugualmente un grande dispiacere perché è stato un grande campione e ha dato tanto e darà ancora tanto anche comunque per me se non correrà più e sicuramente ci è venuto dai dispiace è un grande campione però ha fatto comunque sia la sua strada e ha dato ripeto ha dato tantissimo grande dispiacere perché un campione così dopo tutte le emozioni che ha dato in questi anni sarà difficile anche per la moto gp ricompensarli però speriamo nei nei prossimi giovani che lì nasca un altro valentino quello più bello penso quando quando vinto è l'ultimo mondiale contro lorenzo anche quando ho fatto catalunia quel sorpasso o anche quando ho fatto le lotte con stoner però ne ho tanti anche quando ha vinto l'ultima volta assen è stato bellissimo è stato i knew he was stopping with retiring with stopping with racing but still when he said it I was a little bit down of course a little bit sad about it because I can't see anymore in in life in action perhaps with car driving but not with not the gp what which is my passion abbiamo intervistato anche il sindaco di tavuglia francesca paulucci che ai nostri microfoni oltre ad aver raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni dopo l'addio di valentino rossi nella giornata di ieri al motociclismo ha anche raccontato di come nei prossimi mesi probabilmente ci sarà un evento organizzato in suo onore e al mito di tavuglia valentino rossi sicuramente studieremo qualcosa di ufficiale non la definirei una festa un evento perché viviamo l'epoca della dell'emergenza sanitaria quindi non possiamo pensare di fare feste come si facevano in passato cercheremo di ufficializzare un momento importante di riconoscimento nei suoi confronti questo sicuramente ancora dobbiamo elaborare bene penso metabolizzare anche se era un momento che ci aspettavamo prima o poi sarebbe arrivato e come come vale per lui vale per noi magari avremmo voluto che corresse altri 20 25 anni come ha detto lui ieri sarebbe stato chiaramente bello ma impossibile possiamo soltanto essergli riconoscenti per tutto quello che ha fatto per il nostro territorio per il nostro comune portando il nome di tavuglia in tutto il mondo quindi abbiamo avuto una promozione un marketing territoriale notevole importante e lui è una leggenda che ha fatto la storia del motociclismo e la storia anche del nostro paese moltissime persone come avviene da tantissimi anni continueranno a venire a vedere dove lui vive dove lui ha vissuto e cercheremo di rendere accogliente sempre di più questo luogo anche riconoscendo a lui il merito la pagina degli aggiornamenti covid sul territorio altra giornata di crescita per i dati relativi ai nuovi casi nelle ultime 24 ore infatti il servizio sanità ha segnalato 217 nuovi positivi a fronte di 2809 tamponi analizzati 1555 nel percorso nuove diagnosi balzo nettamente in avanti rispetto alle scorse giornate anche per il dato pesarese che oggi segnala il più alto numero di casi rispetto alle altre province ben 89 il servizio sanità inoltre notificato nelle ultime 24 ore un nuovo decesso legato al covid si tratta di un uomo di 90 anni che era residente nella provincia di macerata le tante segnalazioni che anche rossini tv ha raccolto nel tempo inizieranno a trovare qualche soluzione a partire da settembre nei primi giorni del prossimo mese infatti partono gli interventi di riqualificazione al padiglione dei fiori del cimitero centrale di pesaro per il quale con il passare degli anni tante volte sono stati denunciati disagi e problematiche vediamo in seguito alle problematiche registrate nel corso degli anni dai cittadini e le diverse testimonianze raccolte anche ai nostri microfoni partiranno a settembre gli interventi di riqualificazione al padiglione dei fiori del cimitero centrale di pesaro transenne accessi modificati distacco dei pannelli e infiltrazioni sono solo una parte delle segnalazioni dei disagi denunciati dagli utenti del cimitero che dai primi giorni del prossimo mese potranno quindi iniziare a vedere gli interventi attesi e bloccati da un contenzioso durato anni tra comune e ditta esecutrice dei lavori subito dopo ferragosto affideremo i lavori per l'appalto sono due appalti che per complessivi 400 mila euro per il primo straccio di interventi come era previsto nel bilancio nel piano delle opere del comune di pesaro che si realizzeranno appunto nel 2021 l'obiettivo è rendere agibile il più possibile diciamo il padiglione dei fiori già dalle festività dei morti quindi dal novembre 2021 e vedremo io penso compatibilmente con le disponibilità delle ditte ma già dai primi giorni di settembre le ditte all'opera appunto al cimitero centrale per sistemare almeno per iniziare la prima parte dei lavori i lastroni potevano diventare pericolosi quindi sarà un intervento sulla sulla struttura esterna e quindi verranno poi rimosse le trasende garantire l'accesso senza dover fare chissà quali giri per andare a trovare i propri cari al termine dell'estate partiranno inoltre i primi interventi per la realizzazione della nuova area parcheggio del cimitero centrale adiacente al san decenzio previsti circa 200 stalli attesi oltre che dai cittadini anche dagli ambulanti del mercato che da tempo rimarcano la necessità di incrementare il numero di posti auto nella zona per agevolare i tanti clienti che ogni martedì e nella terza domenica del mese si recano a fare acquisti tra le bancarelle abbiamo fatto un incontro qualche giorno fa con l'assessore fringuellucci l'azienda fme e alcuni rappresentanti degli ambulanti ci siamo dati ci hanno dato la ditta insomma un cronoprogramma che ci porterà per la prossima estate ad avere il parcheggio attivo per ospitare le auto di chi va in centro tutta la settimana di chi il martedì o la terza domenica del mese va al mercato quindi vorrei ringraziare anche l'imprenditore che si fa carico di queste operazioni in un periodo storico insomma non facile e si intitola music life la nuova opera realizzata a pesaro nel sottopassaggio di loreto secondo step del progetto sottopassaggi d'arte urbana iniziativa del comune che intende valorizzare e riqualificare i luoghi grigi della città continuiamo con questo progetto che comunque sia riqualifica colore rende viva la nostra città questo è il secondo capitolo dopo aver inaugurato il sottopasso di via la marca dedicato ai camillas questa volta abbiamo affidato diciamo l'opera alla grande e sapiente conoscenza dell'associazione re euro e reperti urbani di pesaro e loro in pratica hanno in qualche modo donato quest'opera alla città un'opera che parla di musica perché comunque sia pesaro è città della musica e coinvolgendo un artista di livello internazionale in questi giorni sono state tante le fotografie sul web tante le persone che comunque sia passando hanno voluto fare una fotografia hanno comunque sia manifestato entusiasmo per questa bellissima opera che fa del colore la propria diciamo radice quindi continueremo a settembre previsto il terzo sottopassaggio che è quello di via milano e poi se il progetto è piaciuto il prossimo anno faremo altri tre sottopassi associazione re euro reperti urbani protagonista di questo progetto quindi che cosa i pesaresi potranno vedere nel sottopassaggio di l'oreto potranno vedere un'opera di geometric bang un artista italiano di fama internazionale che ha preso a cuore il tema musicale essendo lui stesso musicista e quindi ha lavorato sul tema jazz di musica nera black soul con una parte astratta nel sottopasso carrabile e dove un enorme pentagramma formato da enormi campiture di colori si incastrano con una cadenza appunto ritmata e nella parte invece ciclopedonale un enorme orchestra piena di strumenti musicali che accompagnano i passanti durante le loro traversate nel sottopasso guidati da un gigante compositore direttore d'orchestra ai nastri di partenza la quarantaduesima edizione del rossini opera festival il roff alzerà il sipario sul primo spettacolo moiset faraon lunedì 9 agosto alle ore 19 alla vitrifrigo arena le tre repliche si terranno il 12 16 e 19 agosto giacomo sagripanti salirà sul podio dell'orchestra nazionale della rai e del coro del teatro ventidio basso regia le scene i costumi sono invece di pier luigi pizzi ed è stata inaugurata questa mattina in via di azzapesaro la prima delle saracinesche letterarie attraverso la pittura artistica di alcune saracinesche del centro storico il progetto mira a rendere più bella e colorata la città ideato tre anni fa dallo scomparso luigi panzieri il progetto è promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il liceo mengaroni e pesaro continua la sua corsa verso l'eurovision song 2022 passando la prima selezione e rientrando nella classifica delle 11 città che attualmente sono candidata ad ospitare il grande evento soddisfatti il sindaco di pesaro matteo ricci e il vice sindaco daniele vimini bilancio di metà estate positivo per il teatro dell'area di gradara che punta soprattutto sul mese di agosto per l'arrivo di nuovi visitatori il centro di falconeria ha deciso di istituire degli spettacoli anche per il lunedì visto l'avvio proprio a gradara delle cinque serate del piccolo magic castle le informazioni sugli eventi del teatro sono consultabili sul sito www.ilteatrodellarea.it oppure sulla pagina facebook e arriva domenica alle 21 e 30 all'arena bcc di fano un nuovo appuntamento con il divertimento grazie ad una serata dedicata alle barzellette papà papà mi porti allo giò ti ho detto di no se ti vogliono vedere vengono a casa quest'anno abbiamo una chicca in più noi eravamo alla ottava edizione di gara di brazellette quest'anno ci siamo un po trasformati perché i concorrenti erano sempre quelli purtroppo trovare nuovi concorrenti è difficile cosa abbiamo pensato di portare gli ultimi quattro finalisti della sai l'ultima di mediaset perciò avremo un concorrente che un concorrente sarà una gara sarà una serata comica uno viene da roma l'altro viene da perugia umbro il nostro bicio che è di fermignano interno qui e l'altro viene da modena abbiamo quattro personaggi i contrafinalisti della sai l'ultima perciò diciamo che avremmo alzato un po il livello della della barzelletta me ne fa un'altra la beve me ne fa un'altra la beve me ne fa un'altra la beve alla decima sambuca al barrista lo guarda certo che lei beve beh in effetti io bevo anche troppo poi con quello che c'ho io non dovrei neanche bere perché che c'hai c'ho 1 euro e 50 e ora la pagina sportiva del nostro telegiornale perché continua l'attività della torol ski center scuola di pattinaggio di velocità attiva a pesaro che con l'atleta linda rossi ha trionfato pochi giorni fa ai campionati europei che si sono tenuti in portogallo un risultato straordinario come ci raccontano i protagonisti in queste interviste una notizia grandissima di sport perché ha a che fare con la città di pesaro torol ski center questa società appunto di pattinaggio di velocità su rotelle su ghiaccio che sforna veramente campioni allena dei campioni come in questo caso oggi conosciamo ma abbiamo già conosciuto in precedenza linda rossi perché ci deve parlare assolutamente delle vittorie campionati europei linda allora sono tornata più o meno una settimana fa dai campionati europei in portogallo diciamo come ho già detto anche al mio allenatore è stato uno dei campionati più belli che abbia mai fatto e dove mi sono portata a casa due ori e quattro bronzi ma non è proprio le medaglie che qua pesano ma il fatto che diciamo che l'ambiente è stato veramente una figata super e la nazionale quest'anno è stata davvero top quindi mi porto a casa queste medaglie che a me servivano e sono anni che le rincorro e questa volta ci sono riuscita e per me è una grande emozione allora complimenti a te linda complimenti anche a michele ravagli che ti ha allenato che ti ha preparato come è avvenuta la preparazione soprattutto qual è la tua soddisfazione ad avere dei campioni così in società la preparazione è avvenuta in modo minuzioso è avvenuta attraverso anche tante gare che abbiamo fatto durante il corso dell'anno ricordo che l'inda prima dell'europeo ha vinto ben sei titoli tricolore e un argento su sette gare disputate recenti campionati italiani quindi era un po già sull'onda questo questo risultato la preparazione con un atleta di alto livello sicura nei minimi dettagli sono dei cavalli di razza di puro sangue con cui non si può sbagliare a livello emozionale a livello fisico e la soddisfazione torolski è doppia perché l'inda è stata convocata come atleta rappresentativo della nazionale e sottoscritto è stato convocato come preparatore atletico della nazionale quindi ecco in un campionato europeo il torolski center ha portato due convocazioni una a livello tecnico e l'altra livello atletico insomma ecco quindi bellissimo 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 complimenti alla società torolski center complimenti linda diciamo anche in questa occasione qual è il prossimo traguardo il prossimo traguardo è grande pesante diciamo e sono le olimpiadi per me su ghiaccio e sto puntando a quelle sto puntando tutta me stessa quindi speriamo bene invece prossimo traguardo delle torolski center far riconoscere nel migliore dei modi e nel modo più ampio possibile il pattinaggio di velocità nel mio territorio nella città di pesano nel territorio limitrofo noi siamo una realtà regionale e quindi sviluppiamo questa passione che sta dilagando abbiamo oltre 100 bimbi tesserati per noi e quindi questo è la nostra mission e concludiamo la pagina sportiva del nostro telegiornale parlando di basket perché è uscito poche ore fa il calendario completo della regular season della serie a 2021 2022 che vedrà al via 16 squadre la grande novità di questa edizione è che per la prima volta nella sua storia la lega basket ha varato un calendario asimmetrico nel quale il girone di ritorno non rispetta quello di andata per la carpegna prosciutto basket pesaro l'esordio avverrà in trasferta a sassari domenica 26 settembre e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo però la programmazione di rossini tv che continua questa sera in prima serata alle 21 e 15 uno speciale dedicato all'incontro con l'autrice del libro la lista delle cose semplici lucia renati nella sala delle arti questo speciale quindi questa sera su rossini tv in onda alle 21 e 15 e vi ricordiamo anche che la programmazione attuale di rossini tv prevede la replica di alcune puntate di alcuni programmi andati in onda nella scorsa edizione televisiva sabato alle ore 21 potrete rivedere infatti le puntate e le repliche della prima edizione di master fish sabato quindi alle ore 21 su rossini tv l'informazione torna puntuale in diretta domani mattina alle 7 20 con la nostra rassegna stampa buongiorno rossini alla conduzione ci sarà antonio astuti e invece domenica 8 agosto saremo in diretta alle 11 in occasione del pellegrinaggio votivo di monbaroccio al santuario del beato sante e in cui trasmetteremo appunto la santa messa celebrata dal ministro provinciale dell'ordine francescano provinciale padre giampieri martino l'appuntamento in diretta su rossini tv domenica 8 agosto alle ore 11 grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su rossini tv domenica 8 agosto alle ore 11 grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale